Musica Bello a tutti ragazzi, qui onk vi parla Ed eccomi qui in questo nuovo video Siamo su Mirror's Edge E questo è il Quarto, no Che episodio eh Io non mi ricordo mai il numero degli episodi Mi sembra il quinto Sì, penso è il quinto O il sesto Il sesto episodio Boh non lo so ragazzi E quindi niente Continuiamo nella nostra avventura Oddio sfonda le porte lei Caricamento del livello Esattamente Ok Allora Dov'è? Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo Ma io avevo sentito un ascensore Tipo Ma questa è la cosa, quella di prima Dove è spuntato Quello che ci ha distrutti Bene Bene, bene, bene Scappa Scappa Oddio Scappa È morta È morta È morta È morta Porca di quella Allora Vediamo, corri Io però ho sentito un ascensore, no? Che tipo, doveva essere questo? Ma è questo? È questo l'ascensore E' questo l'ascensore Aspettate Molo Distruggiamo tutto Via Eccola là Cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ecco, corri, corri Eh, di do Da qui, da qui, da qui, dai Vai Ascensione di emergenza Prima persona per aprire la tromba No, ma che cazzo c'era scritto Ehm Oddio Madafacca Porca Che cavolo Ok, nessuno ci insegue più, sembra Non vorrei parlare troppo Wow Oh my god Allora, da dove? Sì, ho inserito i Ho inserite i sottotitoli Quindi ora E' più figo Ma di là cosa c'era, eh? Eh? Cosa mi nascondi? Ah Ok, ho capito Bene Io me ne vado tipo così Ehm Da Da qui Ma che No Ma che cosa ha fatto Oddio Ah Allora dobbiamo fare una provata, eh Una provata Sì però Che cavolo E se continuiamo così Fate Mi sa che neanche per Per fine dicembre Ce la facciamo Oh Ma che cavolo Alzati Ok, salta Bene Ok Yeah Motherfucker Oh, perfetto Ok, da dove? Stop 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 Ok, di qui No Che cosa fa? Lei è pazzo No, la polizia Qualcosa è rosso Quindi penso Devo Devo andare lì Forse da qui Mamma mia Chi ho provato No, era arancione Però penso sia questa la strada E adesso non ricordo Da dove? Oddio, 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 oddio Oddio, no Si stanno chiudendo Aiuto Che cavolo E ora? Porca Veloce E dai Madocchio E lento Sbrigiamoci così No Sbirri davanti a noi Non ci credo Ma quello ce lo dice proprio così Dovrai batterti Cioè come Come può dirlo Una Una Signora Come Faith Che è un maschiaggio Ok Buttiamo questa Prendiamoci questa Oddio Oddio Muori, muori, muori Oh, muori, muori No, 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 no Non si può Non si può Porca di quello Bene Io proverei a fare un'altra cosa Tipo La fuga 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 No Quello è pazzo Oddio Quanti ce n'è No, no, no Ma da facca No Ma che cavolo Tarzan Cosa fa Tarzan qui Wee, wee, wee C'è una scala Corri, corri Sbrigati Ti ammazzano Madonna mia Fate Sei proprio una cosa Truicidare Proprio Di qua non si può Quindi di qua Ok, no Non c'è arrivato Da dove Da dove si va Una porta Out of Fuori servizi Il comando di emergenza È nel mio ufficio Il custode Comando di emergenza Quindi quello Allora Un modo Per arrivare L'ho trovato Cioè ma proprio No Cosa fa No Ma dai Ma perché Uffa Eccola Brava Brava Dubbeta Soltanto questo A quanto pare Sì Ok Ma che cos'è questo Feed the scruffy Oh Vabbè Usciamo Penso che si sia aperta Quella porta Dai 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 Ma allora Sei un pro Mamma mia Che yonk Che c'avete Wow Ma che Cazzo Me la dovrò fare a corsa Bene Prima porta Subito Ovviamente Che sto perdendo il segnale Già l'ha perso Wow Ma che Cavolo Veloce Corri Corri Fate Oh Wow Wow Non faccia così Mi Ma che Cazzo Porca Di Quella Bene Ottimo Anzi Corri Corri Di qua We 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 Bene Forse Forse È il momento giusto Mi schiacciano Mi schiacciano Mi schiacciano Non mi schiacciano Madonna mia Per un pelo Porca di quella Eh sì Però Ora Ma che Cavolo No Ecco Cioè tipo Ora Che Cazzo Dove Wow Mamma mia Io non me l'aspettavo Io stavo saltando Tipo a caso E ce la faccio Mamma mia No Di qua Non ci passa È top Gross Bene Dovrei andare lì Bene Anche se non so il perché Io ci devo andare Una scala Random Proprio Fatta con i big money Cioè Non so il perché Però è fatta con i big money No E dai Ma tu Dai 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 Perfetto Ti ho ripresa Sei in una sala di aerazione della metropolitana Spegne le ventole Spesso dietro ci sono delle gallerie Beh Ok Ventola spenta Penso Allora io penso Dovrei andare di qua Ora in caso torniamo Se l'è stata sbagliata Che vuol dire Provo i treni No Non mi farei preoccupare Ma che cavolo Oddio What the fuck 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 Aiuto Mi butto Ok No Non dovevo farlo Che mi lancio di qua col treno No Ma non penso Io muoio col treno Che cazzo dico Vediamo Oddio Sopravvive Oddio 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 Ma non è che muoio eh Porca Wow 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 Ma è una cosa ostacoli eh Cambia treno Oddio Che cavolo Ma Perfetto Girati che Sbatti in un muro E poi muori Bene Andiamo a calci random Che caspita Si illumina Quando do Un puno Wow Cambia treno Cambia treno No Uffa No Che fail Che sto facendo Io proprio Ok Allontaniamoci un po' Vediamo Dov'è Eccolo Eccolo qui Primo Eccolo un altro Si Ce l'ho fatta Oddio Allontaniamoci ancora Secondo me Cado all'indietro Proprio Perché non c'è più treno Wow Wow Ma che cavolo Dovevo saltare Bene Ora Abbassare Di nuovo Abbassare Di nuovo Saltare Di nuovo Abbassare Abbassare Sinistra Destra Cioè Destra Oddio Cosa fa Questo treno Ma 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 Oh Ah È sopravvissuta Hai un treno alle spalle Togliti Rimetto Oh porca What the fuck Che cavolo No Bellissima però Non posso più uscire Bene Bene Benissimo Bimba Bimba Chi lo dice Eh Ma Cazzo Gridi Che Va bene Ok Basta Basta A che stai pensando Ha un assassino Ah si Si Di pop Ho saputo di un incontro al mio Eden domani Ci farò un salto Cazzo Faith Ma perché Non è la tua guerra Mettiti da parte Quando ero piccola Avevo una scarso opinione della città In mia invece no Per loro c'era qualcosa che andava difeso Mamma e papà erano amici di poco Organizzavano proteste Boccottavano il sindaco Coinvolgevano anche me e Kate Ma Per quanto mi sforzassi Non capivo Perché lottare Mark dice che tua madre è morta È stata uccisa durante le sommorse Una marcia di protesta Finita male Brutto colpo E così la famiglia Beh È andata a pezzi Papà non se l'ha mai perdonato E io sono fuggita di casa Forse neanche io l'ho mai perdonato È allora che hai incontrato Mark Mi ha sorpresa Mentre rubavo in casa sua Davvero? Non me l'ha mai detto Volevo addestrarmi Mi sembrava una bella occasione Ho detto di sì Non avevo molte opportunità Ciò che fai ora Fate è il modo più veloce per farti uccidere Hanno incastrato mia sorella Sel E io la tirerò fuori dai guai Vedevo almeno questo Sopravvivrò Come sempre Sopravvivere non basta Bisogna anche vivere Ehi vieni con me domani Potresti aiutarmi? Non posso Ho un lavoro per Drake Dice che mi sta rilassando Ora devo andare Ok Tanto fra poco cominceranno a sparare Su vai Fate Sta attenta Ok video finito Ok Sono blocchi stradali E niente Il video è finito L'avete visto La madre di Kate è morta L'hanno sorpresa mentre Rubava tipo E vabbè Andiamo Dove si va? Si va di qua Ok Non dovevo farlo Bene Andiamo per altri due minuti Perché già siamo A 18 17 circa Corri Non ti fare guardare Non ti fare vedere Ehm Attenzione al soffitto basso Proprio Sai che è di qua Salta di qua Salta di qua Perfetto Ehm Vediamo 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 Di qua non si va Da dove si deve andare Di qua? No Di qua Giusto Perfetto Corri Wow Madonna mia Si Già Quello Gli sparo Porca miseria Non è più di uscita Alternativa No No di qua non si va No di qua proprio No Porca miseria Andiamoci però L'ultima volta Che già stiamo a 19 minuti passati Troverai una via d'accesso Al portale Sezioni 3 e 4 Ok Ora li sto facendo Più lunghi Questi episodi Così magari Non Non lo finiamo Tra 3 anni Anche se comunque Sarà difficile Caricare i video Questa Come sapete La mia connessione È lentissima Non ti fare vedere Fate E che cosa Io ho detto Va bene No di qua no Ah Devo salire Che genio Vabbè Wow Wow Meglio stare qui nel mezzo Da dove Passa il treno Oh Oddio Già mi stanno ammazzando Wow Ok mi passa a filo Il treno Scapa 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 Bene 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 Ok Penso di finire qui il video Eh Sì Ok No Che cavolo Oddio 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 Bene Ad Di Alla nostra destinazione Così ha fatto anche il salvataggio quindi posso staccare il gioco Perfecto E dai Quando ci vuole Sì Secondo me già sono Arrivato Sì infatti si vede il caricamento Tipo che già ha caricato Beh Deve simulare Ecco infatti Allora Il video lo finiamo qui anche se Comunque vi avevo detto di che durava Di più In effetti comunque è durato abbastanza Che cosa fa Voglio salire qui Ok Se vi è piaciuto lasciate un like Un commento Con quello che volete Critiche costruttive Così va Un commento No ma dai Che ho fatto Ho ucciso Ho ucciso No E niente ragazzi lasciate un like Un commento Scrivetemi Qualsiasi cosa Sui commenti Passate dalla mia pagina Facebook e Twitter Ovviamente su Twitter Ci sono sempre meno persone Quindi Ci sono anche meno persone Che mi seguono su Twitter Mentre su Facebook Siete un po' di più Sì Su Facebook e su Twitter Vi aggiornerò su quello Che farò Tipo I prossimi video E cose del genere Ci farò anche dei Come si dice Delle domande Che voi votate Tipo per esempio Cosa volete che usciva Un giorno Totte E voi Mi dite Eh ma io voglio questo Eh ma io voglio questo Eccetera eccetera Quindi niente ragazzi Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao